Allora, è andata bene, sono molto contenta, sicuramente per il risultato, ma anche perché hanno votato tante persone, hanno votato tante persone, la discussione è stata bella in tutti i circoli, sono stati belli i confronti e insomma la partecipazione c'è stata e questa è un'ottima notizia per il Partito Democratico, ma soprattutto perché da subito dobbiamo cominciare a lavorare tutti insieme, quindi anche con Giacomo, per le prossime sfide a partire dalle provinciali e poi comunali ed europee.